Ragazzi in questa playlist sull'idroelettrico avete visto che c'è tanta carne sul fuoco e sarà veramente entusiasmante Vi ricordo che le tre energie pulite della terra sono proprio sole, vento e acqua Il resto è discutibile Bene, in questo video che cosa vedremo? Vedremo la modifica di quello che è il motore adattato alla lavatrice Con il cestello davanti, con gli assi eccetera Bene, dobbiamo estrapolare solo la parte che ci interessa Ragazzi, tanti dettagli come al solito e sempre in sicurezza Vi farò vedere l'uso anche di alcuni strumenti In modo da togliere la parte che interessa a noi per realizzare il nostro motore Queste playlist vanno avanti, avete visto, in maniera dettagliata e quindi calma Proprio per permettere a tutti voi di realizzare i prodotti video dopo video Iscrivetevi al canale e fra pochi secondi ci vediamo per questo video Che direi essere molto importante per la realizzazione del proprio impianto idroelettrico In fai da te Buona visione Questo è l'ex motore della lavatrice Il buco che vedete in centro con il flessibile sono andato a tagliare E ho ricavato che cosa? Tutto il gruppo dove ci sono i cuscinetti, fronte, retro, i bulloni di fissaggio del generatore E qui praticamente ho ricavato questo che è già pronto E questo mi consentirà di evitare di doverlo creare Creare il supporto che debba fissare gli avvolgimenti Fissare i magneti permanenti, mettere l'asse Cioè qui è già tutto pronto Praticamente cosa ho fatto? Con un flessibile ho tagliato e alla fine Sempre con la mola ho rettificato in modo da dargli una forma quasi perfetta Che è ideale a questo punto per avere tutto il gruppo produzione Cioè il generatore inglobato su un unico pezzo ricavato dalla lavatrice Andiamo avanti col progetto ed è molto interessante perché questo era il lavoro più difficile Cioè creare un supporto che debba contenere tutti i perni Che debba bloccare gli avvolgimenti Che con i due cuscinetti fronte e retro, con i vari cortecchi eccetera Insomma era il lavoraccio A questo punto invece questo è già bene pronto E soprattutto ragazzi a costo zero Ebbene come avete visto da questo video molto breve Il lavoro che dovete fare è molto semplice Un foro che vi permetta di introdurre il seghetto alternativo ragazzi Con questo voi segate tutto il cerchio che vi interessa del pezzo che dovete poi estrapolare Una volta che avete segato e quindi tolto quel pezzo Dovete abbellirlo diciamo perché rimane tutto un po' sconnesso E allora potete usare questo flessibile Un flessibile come si chiama a Roma A Milano si chiama flessibile Ma il frullino Ecco il frullino E qui ci dovete mettere ovviamente una di queste mole Le vedete queste sono ideali perché andando lentamente evitiamo che la plastica vada a scaldarsi e si impappi E poi veramente diventa difficile lavorarlo Quindi ci vuole un lamellare Una mola lamellare di questa che ha proprio lo sconnesso Questa è una grana 40 potete usare quello che volete voi In questo modo andiamo ad abbellirlo a lucidarlo E vi ricordo sempre ragazzi quando facciamo questi lavori di mettere gli occhiali Perché le schegge di plastica piuttosto che di materiale abrasivo in questo caso Quello è carborundum lo riconosco dal colore Ebbene questo materiale se vi schizza negli occhi fa malissimo Quindi ragazzi mi raccomando gli occhiali qualsiasi essi siano A questo punto che cosa abbiamo ottenuto Abbiamo ottenuto ve lo faccio vedere da vicino Il componente che volevamo avere senza E questo è importante ragazzi Senza andare ad autocostruircelo Con il tornio dobbiamo tornire l'alluminio Fare gli inserti per i bulloni E abbiamo anche già i sei bulloni che ci servono Per fissare che cosa Il nostro generatore Capite questo ve lo faccio vedere una volta Che l'avete grattato Questo è molto molto di qualità Non lo fareste uguali ragazzi Vedete il fronte e il retro E qui che cosa inseriamo in questo Andiamo a inserire esattamente Intanto intanto i magneti verranno fissati Vedete nel suo alloggiamento già pronto ragazzi Qui dobbiamo solo fissare le varie cose esterne per il sostegno Ma è già pronto vedete Questo non è quello che rotea ragazzi Questo è quello che rimane fisso Là dove abbiamo deciso di fissare il motore E l'avete visto anche nella turbina Dobbiamo poi creare ovviamente È un procedimento un po' impegnativo Dovremmo creare la scatola inox E questo andrà sopra Quando abbiamo creato questo Questo è l'altro pezzo Ovvero quello che gira Dove ci sono i magneti permanenti Vedete qua Ci sono tutti i magneti Che fanno sì Che gli avvolgimenti Questo girando Produca energia Tutta la parte che deve generare corrente È fissa con le connessioni E questa sarà quella che girerà Ora Mentre sganciate questo Ci sarà questo pezzo rotto Che era quello che sosteneva il cestello Ebbene ragazzi Questo dovrete andare da un tornitore Che ve lo mangia tutto Quando l'ha mangiato Questo entrerà comodamente Nel nostro asse Attenzione Questo non è un pezzo unico Ma questo è connesso Attraverso un bullone sul retro Vedete È fissato così Quindi se io vado a sganciare A svitare questo bullone Ok Ebbene abbiamo i magneti Che sono esterni E questo è l'asse Ora Questo dovremo portare Dal nostro Amico tornitore Se non abbiamo un tornio Verrà fissato E verrà tornita questa parte Che non ci interessa Sarà quella Che Era quella che sosteneva il cestello E adesso A noi invece Non interessa Ragazzi Se invece Doveste rifarvi un albero così In acciaio inox Di un certo livello Cioè Diventa impegnativo Qui abbiamo ragazzi Tutti i componenti Tutti i pezzi Che ci servono Ovviamente Dalla lavatrice Abbiamo anche i sei bulloni Ci prendiamo anche il nostro corteco Che questo è un doppio labbro Quindi è una bella tenuta E vi ricordo che quando poi monteremo Poi ve lo farò rivedere Questo va ingrassato abbondantemente Con grasso al litio E quello Contribuirà Nonché ragazzi Il cavo Questo è il cavo di connessione Che sarà fissato esattamente Al generatore Vedete Ci sono già tutti i cavi Che ci serviranno Chiaramente Adesso vi ho fatto vedere Come si è smontato il cestello Come andremo a riformare il tutto Nel prossimo video Che cosa faremo? Dobbiamo vedere Che cosa vogliamo generare La 12 volta La 24 La 48 La 230 Ebbene Questo Sarà Calcolato In base Al numero di spire Che daremo Su ognuno Di questi Ognuno dei magneti Chiamiamolo Non permanenti Questi qua Dove ci sono gli avvolgimenti Dovrà essere connesso A un suo rispettivo Che potrà essere 7 elementi 4 elementi 3 elementi Con un certo numero di spire Con un certo diametro di cavi Insomma Tutti questi dettagli Adesso non voglio riempirvi In questo video Li vedremo nei prossimi video In questo modo ragazzi Oggi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto tutti i componenti Che ci servono Quelli che possiamo recuperare Dalla nostra lavatrice Dal nostro motore In modo da preparare Tutto per i prossimi step Che sono esattamente La creazione Del nostro avvolgimento Mirato Su quello che vogliamo creare noi E questo Sarà fatto in funzione Di tanti parametri Perché bisognerà Tenere presente La nostra risorsa Cosa genererà Questa potenza? Una grande caduta? Piuttosto che Poca caduta Ma abbondanza d'acqua Quindi la portata Che tensione vogliamo creare? Che supporti vogliamo usare? Una turbina Pelton? Una Francis? Una Kaplan? Abbiamo un fiumiciatolo Che va lento Quindi deve cadere Anche solo di un metro Ma boff All'interno Di questa turbina O abbiamo magari Poca acqua Ma ad altissima Caduta E quindi abbiamo magari Uno, due, tre litri al secondo Ma A 50 metri? Allora Tutto questo Deve essere Attentamente calcolato Se no qual è il rischio? Andremo a far girare Troppo velocemente Dobbiamo chiudere Oppure andremo a sprecare acqua Senza produrre Vi ricordo che comunque L'acqua È soggetta al demanio Significa che non possiamo Allacciarci un fiume Senza avere Le autorizzazioni Poi ognuno chiaramente Preleva E ributta nel fiume In armonia Con i propri Con le proprie personali scelte Adesso vi farò Un esempio di montaggio Non sarà ragazzi Quello definitivo Perché vi avevo già detto Che devo tornire Questo pezzo Quindi Vi faccio vedere il montaggio Come se fosse definitivo In modo che Andiate a capire Come utilizzare i componenti Che abbiamo preso Questo Diciamo È tutto il supporto Che rimarrà fermo Qui andrà fissato Il generatore Vedete Però non così In quanto questa Che è la parte Ferma Dovrà rimanere Nascosta Quindi dovremo andarlo A posizionare così Perché qua sopra Poi Ci andrà Ovviamente Il nostro Il nostro Magnete Quello che rotea Praticamente Questi magneti Vanno a roteare Qua sopra Ok Adesso io metterò Che cosa I sei bulloni Qua dentro In modo da Fissare Il generatore Al suo Piano stabile Ok Per fissare questo Vi ricordo Che Non tutti Non tutte le scanalature Sono uguali Vedete Perché questa È diversa Questa è un po' Più affondata Vedete Rispetto a queste altre Ok Ecco che Questo Pezzo Dove ci sono i sensori Va posizionato qua Così non entrerebbe Invece così Entra in quella scanalatura lì E arriviamo a filo Con il piano Ok Questa è una cosa importante A questo punto Inseriamo Tutti i nostri Sei Bulloni Adesso Adesso Avvitiamo Dopodiché Vi farò vedere L'aggiunta Degli altri componenti Qui Sono stati Serrati I sei bulloni Vi ricordo Che tutto questo Poi sarà Smontato Per andare A creare Gli avvolgimenti Nuovi Nonché Tornire il perno A questo punto Noi giriamo Girando questo Dobbiamo Posizionare Il nostro Corteco Che sarà Quello Che ci Evita Di avere Acqua Passante Quindi Quando mettiamo Questo Nella posizione Giusta Che è così Non è così Vedete Perché Questo deve Frenare In funzione Della spinta Ok Quando abbiamo Inserito Il nostro Corteco Andiamo A Inserire Il nostro Asse Vedete Che sarà Tornito Bello pronto All'uso Inseriamo L'asse Che farà La tenuta Ovviamente Qua Andrà Inserito Grasso Di litio In abbondanza Dentro Nel Cortego In modo Che fa Anche Lui Una tenuta E da Lubrificante Rigiriamo Il nostro Supporto Vedete Che è andato Perfettamente A filo Ok Qui c'è la tenuta E qui ci sarà L'acqua Ok Con questa Tenuta Ovviamente Poi dovremo Sigillare Insomma Il video Il video Di questa serie Non saranno Brevi Proprio perché Voglio come al solito Usare Tanti dettagli Quando abbiamo Posizionato Questo Andiamo Prendere Il disco Rotante Con i magneti Vedete E questo Andrà Posizionato Qui Lui Entrerà Diciamo Da solo Ok Un attimo Di Centraggio Eccolo Eccolo qua Questo si è centrato Adesso La parte sotto Rimarrà fissa E sarà proprio Questo A roteare Vedete Insieme All'assa Adesso È cominciato A diventare Pesante Ragazzi Questo roteando Genererà Corrente Ok Chiaramente Adesso pesa Ve lo faccio vedere Con rotazione Contraria Guardate Questo Vedete Adesso Se io Chiudessi Il circuito Qua Lui avrebbe Una tensione Ok Ma chiaramente Quello che gira Sarà questo Vedete Quindi rimarrà fermo Tutte le connessioni I magneti E girerà Questo asse Dove sarà attaccata La turbina Passante Dalla scatola Che deve proteggere Dall'acqua Fissata Qua con altri perni Eccetera E questo Il magnete Sotto Girerà Adesso con molta fatica Lo sto facendo girare Questo sia attaccassi Adesso Un tester Produrrebbe già corrente Perché questo A bassa velocità Già produce qualcosa Chiaramente poi Tensione E ampere Si producono Alle velocità corrette E per ultimo Quando tutto sarà pronto Andremo a mettere Il suo bullone Che bloccherà La turbina Sull'asse Ecco qua Questo è Il motore Il generatore Finito Ragazzi Questo è stato Un video interessante Tecnico Per andare Dopo adesso Io andrò Dal tornitore A A farmi Finire Questo pezzo Dopodiché Nel prossimo video Vedremo ulteriori dettagli Ragazzi Buona visione Come al solito Iscrivetevi al canale E al prossimo video E al prossimo video E al prossimo video E al prossimo video